Siamo alle Vallette, è uno di quei quartieri che nelle ultime elezioni sia amministrative che politiche ci ha visto sconfitti perché alle amministrative qui in gran massa sono andati a votare per Appendine, quindi per i 5 Stelle e alle ultime politiche invece sono andati a votare per il centrodestra. Era una zona che era considerata una roccaforte, poi in realtà le abbiamo persi. Io sono proprio una delle renziane che ha sostenuto maggiormente Renzi, soprattutto all'inizio quando nella sua inventata di novità portava entusiasmo e quindi riusciva a coinvolgere anche noi giovani io mi considero ancora giovane e quindi riusciva anche a coinvolgere il mondo esterno e credere in una politica diversa.